GOL DEL MILAN TARAPT! A ringraziare Adriano! Guarda com'è contento! Ricordiamo che Taramba ha eguagliato il record di Birsa! Cioè? 2 gol ha fatto già! Raddoppio del Milan! Rami! E facciamo un ringraziamento a chi al mercato di gennaio ci ha portato Rami! Sempre lui! Adrianone, l'imperatore del mercato! 2 a 0! Probabilmente ci poteva stare un intervento falloso sul piccolo portiere della Samp! Mentre il Cagliari nella Sampdoria è stato spulso Maxi Lopez! Da quando ho perso Vandanara non è più lui! Per proteste reiterate! Prima giallo poi rosso Samp in 10! Adesso un fallazzo di cambiativi probabilmente da rosso diretto! L'arbitro non se l'è sentita! Sono intanto l'Inter! Anzi no alla Samp! Si perde il Parlamento Livo sciaturatamente! Lo scarico ancora indietro per la Samp che avanza con critici! Aiaaaaaa! No! Mino male! Mino male che Dersi è divorato il gol 2 a 1! Miracolo! Dersi divora il gol 2 a 1! E finita intanto a Sassio! E finita 2 a 0! Tutto dal Maghreb, Ronda, Rami e Thalat! Attenti!